Finisce 1-1 tra Casarano e Cavese, partita davvero maiuscola per la formazione di casa che però non riesce a portare a casa i tre punti. La Cavese non muore mai ancora una volta, trova un risultato positivo in un campionato che la vede lanciatissima verso il primato. Le scelte di Foglia Manzillo sorprendono un po' gli avversari, Citro è il terminale più offensivo con Strambelli, Gaeta e Bocchetti a supporto. Veniamo alla partita, proprio Citro alla prima opportunità dopo appena un minuto ma non riesce a trovare la porta avversaria. Decimo minuto, occasionissima ancora per il Casarano Strambelli, i tre più ispirati in assoluto per Citro che chiude troppo l'angolo, occasionissima per l'ex Bari. Al ventitresimo si fa vedere la Cavese, batte e ribattinare a pallone, deviato da Rizzo che rischia il clamoroso autogol. Bravissimo nella circostanza l'estremo difensore del Casarano, caro tenuto. Ventiseiesimo ancora Cavese, Gagliardi si gira, pallone alto sulla trasversale. Il gol del Casarano arriva al minuto 30. Verticalizzazione per Citro che entra in area di rigore ed è freddissimo nel battere Colombo. Cavese 0, Casarano 1, gara che sembra a questo punto tutta in discesa per la formazione di casa che controlla senza grossi affanni, addirittura al quarantaquattresimo. Trova anche il raddoppio con Bocchetti, ma il gol non viene convalidato dal direttore di gara, signor Virgilio Diagrigento, per sospetto offside del trecasaranese. Con il montaggio passiamo alla ripresa. Il copione non cambia. Al ventiduesimo protesta il Casarano per un contatto in aria. Gaeta finisce a terra per l'arbitro e tutto regolare protesta. Montervino è spulso, il direttore sportivo del Casarano che siedeva in panchina. Al trentunesimo, nel miglior momento del Casarano, arriva il pareggio della Cavese. Cuomo prova il tiro dalla distanza. La palla prende velocità sul terreno bagnato e beffa l'estremo difensore Salentino. Casarano 1, Cavese 1 e la Cavese nel finale. Il quarantaduesimo potrebbe addirittura raddoppiare con un colpo di testa di Gagliardi che viene controllato dall'estremo difensore di casa. Caro Tenuto finisce così 1-1 tra Casarano e Cavese.